When I first saw you, I saw a love. No! Sento che voi due siete fortemente legati. No, non direi. Lulu! No! Sei indemoniata! Oh, brava! Lulu, sei tu! Ora abbracci le persone, davvero? Da bellissimi abbracci! Non te ne ha mai dato uno? No, noi non esattamente. Non sei la ragazza con cui immaginavo di fare un bagno, ma a questo punto mi dovrò accontentare. Tranquilli, il cane non muore. Non sia un insначente